Per dire e spiegare all'Aula che sottoscrivo l'emendamento 1.223 Lauricella e lo ritiro, essendomi anche consultata col collega Lauricella, spiego perché? Perché poi ci sarà successivamente la votazione su due emendamenti 1.211 e 1.239, su cui c'è stato parere favorevole, che affrontano questo problema delicato tra i tanti su cui ci siamo confrontati, che è quello dell'istanza fatta da chi ha la legale rappresentanza, dal tutore per l'incapace. Siccome nei due emendamenti successivi si limita questa istanza solo all'acquisizione di informazioni sanitarie, pertanto lo riteniamo una soluzione che ci può soddisfare e quindi lo ritiriamo anche a nome del collega. Onorevole Rossomando, la formula non esiste, nel senso sottoscrivere l'emendamento per ritirarlo non esiste e purtroppo non vedo il collega Lauricella, quindi che sarebbe l'unico a poter ritirare l'emendamento. Credo che siamo costretti a votarlo, lo votiamo con il parere contrario della Commissione del Governo, non si può ritirare se non c'è il presentatore. Il presentatore non c'è... E' esattamente per risolvere la questione. Allora, metto in votazione l'emendamento Lauricella a parere contrario di Commissione del Governo e aperta la votazione. Bolognesi. Giammanco che è in arrivo.